E' uscito finalmente il gioco gratis che annienterà Call of Duty, per il semplicissimo motivo che questo FPS non ha l'SBMM, che non è altro che l'abbreviazione di Skill Based Matchmaking, che è una meccanica che tutti i player di Warzone di Call of Duty stanno odiando, e secondo me è anche uno dei motivi per cui la saga di Call of Duty, o comunque di Warzone in generale, sta andando un pochino in declino. Finalmente è uscito questo free-to-play assurdo, ovvero X-Defiant, vi porto quest'oggi con la mia primissima partita e con i vari pareri personali. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo super videogioco free-to-play, lascio un like, un commentino ed iscriviti al canale, ti lascio un super game, bella bro. Ed eccoci qui con la partita, ci ha messo un secolo per trovarla, perché i server funzionavano veramente male. Ho deciso quest'oggi quindi di mettere in pausa un attimino Warzone e di portarvi questo free-to-play, che secondo me spaccherà un sacco. Ho fatto già una partita, lo premetto, perché dovevo un attimino settare delle impostazioni, cercare di capire insomma quali impostazioni potessero funzionare meglio, e quindi adesso siamo qui con la prima partita effettiva. Ok, frame lag un pochino, purtroppo, ragazzi, sarà un sacco di gente collegata a questi server. Ok, e i massist pochissimo, eh, molto poco le massist. Ok, oh mio Dio. Perfetto, prima kill fatta, adesso ne arriveranno altri penso da qua. Cavolo, ho messo la minimappa che non ruota, ma siamo seri? Oddio, raga, l'abbiamo distrutto. Sì, dovrei cambiare la cosa della minimappa, però essendo comunque una mappa piccola, dai, per questa prima partita diciamo che può andar bene. Secondo me, eccolo qua. Oddio, sì, ce l'abbiamo fatta? Mamma mia. Posso dire che mi sta piacendo? Cioè, anche la partita prima che ho fatto mi sta piacendo. È un po' lento sul pad, cioè sembra un po' goffo, a meno i massist e questa è una cosa molto buona. Si può giocare ovviamente con più input, non è per forza appunto pad contro pad, cioè puoi fare sia pad contro pad e tastiera contro tastiera ovviamente, che anche... Oddio mio, ma la vita non si recupera? E ovviamente puoi mettere anche che giochi contro tutte le piattaforme, insomma. È bello perché puoi scegliere, insomma, tutto quanto, cioè... nessuno adesso può lamentarsi, non c'è SPMM, non c'è nulla, raga, che appunto possa far arrabbiare la gente in questo caso. Adesso l'unica cosa da capire è un attimino com'è il gioco, com'è il time to kill. Sembra molto... Oddio, sono morto, raga, sono morto dalla mina che ci ha messo un'ora e mezza per saltare. Devo per forza mettere la minima parotante, se no, raga, impazzisco, esco di testa, vi giuro. Ok, doppiettina fatta, è tosta fare le doppie, c'è un time to kill abbastanza elevato, quindi non è per nulla facile. Ok, questo è giù. Ok, la vita ci mette un sacco a ricaricarsi, per cui bisogna stare molto attenti a pushare. È un gioco dove bisogna usare un po' più la testa, ecco, di Warzone, secondo me. Se no, comunque, un time to kill relativamente alto, secondo me, un pochino di testa in più bisogna usarla. Ok, oddio. Smiratina. Devo ancora trovare la sense giusta, però ci sono quasi, ci sono quasi. Ovviamente, cioè, oltre al fatto di doverla trovare, devo anche abituarmi a questo gioco, perché non è proprio easy. Non è per nulla easy, ok? Richiamo, tanto arrivano qua front, sicuro. Niente, nessuno qua. Eccolo. Questo qua, infatti, fa il movement king, raga. L'abbiamo ucciso, perfetto. Andiamocene via da qua. Oh no, carichiamo. Questa qua è la classe ovviamente predefinita, poi nei prossimi giorni, se voleste vedere altri video, raga, vi porto anche magari qualche classe che, appunto, troverò forte. Li stiamo distruggendo, raga, questi. Vediamo. Ok. Ce ne sarà sicuramente un altro, raga, qua in zona. Oddio, raga, tosta, eh? Cioè, allora, c'è un sacco di danno per gli headshot, raga, si fanno un sacco di danno. Questa è una cosa buona. C'è anche lo slide, un po' l'hanno rallentato, lo slide, però buono. Mi piace il movement così. È abbastanza, diciamo, giusto, secondo me. Giusto. Né troppo, né troppo poco. Molto, molto buono, così. Vediamo qui. Ora arriveranno qua, sicuramente. Ok, un altro andato. Minchia, raga. Adesso abbiamo questo qua, che dovrebbe essere, tipo, la cosa più forte del mondo. Ok. Ok. Madre mia. Quante kill stiamo facendo, raga? Cosa siamo? Uccisioni di fila, un sacco, raga. Non è un sacco. Devo capire ora dove spawnano. Lanciamo una stordente là. Anzi, attiviamo anche questo. Questa abbiamo un lacchino. Ok, ce l'abbiamo qua. Bro, togliti. No, ok, è un alleato. Mamma mia, raga. Posso dirlo che mi sta piacendo un botto? Posso dirlo che sono un botto contento di sto gioco? Però appreziate, raga. Oddio. Nooo. Quante cavolo ero? Era un sacco di fila. Ma hanno quittato. No, ok, siamo ancora full. Perché li trovo molto meno, raga. Non so perché. Me ne stavo trovando molti meno. Vabbè, quello non andava giù. Questo? Ok, perfetto, morto. Non abbiamo neanche provato la pistolina, raga. Erebbe interessante provarla, vedere un attimino com'è, se è forte. Secondo me non sarà tanto forte, raga. Con un time to kill così, una pistola, almeno che non sia automatica, potrebbe essere abbastanza complicata. Ok, ce n'è uno qua sotto, raga. Ok. Oddio, mi hanno stonnato. Aspetta che usiamo il bollacchino. Ok. Mio Dio, quante nade! Scappa, scappa, Gianji! Ok. Morto un altro. Dov'è? È sopra. Ma what? Come fa ad essere sopra? Mi sembrava di averlo visto anche sotto. Ah, infatti ce n'era uno sotto, cioè. Dovrei fidarmi di più del mio istinto e meno di quello che mi indica il sensore. Ok, perfetto. Più o meno abbiamo trovato abbastanza delle impostazioni molto buone. Qua c'è qualcuno, raga. Eccolo là. Abbiamo trovato delle impostazioni molto buone. Fatemi sapere, raga, se voleste il video sulle mie impostazioni. A parte quello della minimappa che è fixo instant, raga. Per il resto, penso che abbiamo trovato tutto alla grande. Vedete? Cioè, alla fine li stiamo squagliando. Mio Dio. Aspetta che ce l'ho qua. Oh, cavolo. Ok. Easy. Adesso arriveranno qua, penso. Ok. Uno fatto dietro. Ok. Via. Scappa. Non male, eh. Per essere arma standard, raga, non è male. Ok. Ok. Pushiamo qua. Oh mio Dio. Aspetta che scappiamo. Oh Dio, era impossibile. Era impossibile così. Ok. Per fortuna questo va aveva lo snappo. Ah, mio Dio. L'avevo sentito all'ultimo. Posso essere sincero, ragazzola? Mi sta piacendo, sapete? Sono molto contento di sto gioco. Ho fatto sparare in wallbang e non esiste, purtroppo. Usiamo questo. Ok. C'è praticamente questa pistolina qua l'inbot, raga. Ok. Oh, con sto pompa, raga, cioè, è migliorato tantissimo questo col pompa. È la prima partita anche per loro, molto probabilmente, perché, ripeto, i server non funzionavano fino a dieci minuti fa. Ok. L'abbiamo fatto. Oh, un altro, un altro, un altro. Aspetta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Movement King, raga. Movement King. Incredibile. Ok. Ci hanno ucciso da dietro. No problem. Quante ne abbiamo? 49 kill, raga. Vediamo se riusciamo a fare la cinquantesima. Cinquantesima? Ok, 50. Vediamo? No, quello col pompa, peccato. Qua sotto? Troppi, troppi, troppi. Dai, dai, che forse faccio l'ultima. Non so quante ne ho fatte. Secondo me è tipo 51 o qualcosa del genere. Per ora ragazzuoli che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse lasciate un like, un commentino e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere se voleste altri video di questo super videogioco. A me sta piacendo veramente tantissimo. 51 morto 15. Molto buona per essere la prima partita effettiva. Per le migliori impostazioni magari ve le porterò nel prossimo episodio, nei prossimi video. Anche le classi meta, eccetera, tutto quanto. Grazie mille a tutti quanti per la compagnia. Vi auguro una buona giornata. Alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.